Bella ragazzi, qui come sempre è Zamp che vi parla oggi, sono tornato per un nuovo commentary su Call of Duty Black Ops 2 Allora, oggi vi porto un gameplay che a dir la verità non è molto scopiettante perché, allora, è vecchio di alcuni mesi in quanto da quando sono usciti DLC ho giocato una settimanella e mezzo a COD, infatti avete visto dai gameplay commesso e poi sono passato su altri titoli, il perché lo sapete, cioè io non mi fossilizzo mai troppo su un gioco, se lo faccio resisto poco ho fatto pure la rima perché generalmente dopo una settimana mi stanco di giocare sempre lo stesso titolo e quando erano uscite le mappe ho fatto solo quello, quindi mi sono stoncato e sono andato un pochino su FIFA, su Splinter Cell e così via perciò un 66 che non è favoloso e anche in una mappa ormai vista e stravista, con un'arma vista e stravista però purtroppo non avevo altri gameplay di questo gioco e allora siamo arrivati a 40.000 iscritti quindi di questo continuo come sempre a ringraziarvi, lodarvi, strafogarvi di abbracci e baci e tutto quello che volete perché senza di voi tutto questo viaggio non sarebbe stato possibile e io spero che continueremo ad andare in alto, sempre più in alto, in alto, in alto oggi guardate tra il raffreddore e tutto il resto che è tardi non mi vengono le parole comunque vabbè la mia utopia sarebbe arrivare a 100.000 iscritti e magari ci arriveremo anche un giorno chi lo sa ci vorrà del tempo ma voglio dire non ci corre dietro nessuno no? Come si suol dire quindi allora volevo dirvi una cosa siamo arrivati a 40.000 iscritti no? e quindi si moltiplicano ogni giorno le persone che mi scrivono messaggi del genere ZAMP basta COD ormai ci sta un po' stancando si lo sappiamo che tu sul tuo canale sei più improntato verso questo FPS però vorremmo vedere anche altre cose mi sono dovuto sorbire anche tutti gli insulti dei fan di FIFA ragione che si erano iscritti e poi non hanno più visto niente di FIFA perché appunto ero focalizzato solo su COD e quindi ho fatto un mea culpa diciamo e come avete visto nell'ultimo periodo ho cercato di mettere video non solo di FIFA ma anche di tanti altri giochi perché molti utenti si iscrivevano e giustamente vedendo solo COD anche loro dicevano COD o FIFA dicevano ZAMP ti prego facci vedere anche qualche altro gioco perché se no vediamo sempre questi e io siccome lo sapete che sono sempre aperto ai vostri consigli a tutto il resto ho deciso di darvi rete e così ho avviato un progetto o meglio dei progetti e quindi delle serie su altri giochi state vedendo infatti la serie su Splinter Cell Conviction che ad essere sinceri non sta facendo tante visuale io sono più che sincero con voi me lo aspettavo perché innanzitutto perché è un gioco diciamo una saga di Splinter Cell la definirei quasi di nicchia perché poche persone ci giocano cioè siamo onesti quante persone hanno giocato a Splinter Cell nella scorsa generazione per me non sono tantissime o perlomeno quelle che stanno su YouTube poi conosco e so di persone che per cui Splinter Cell è stato il pane quotidiano però diciamo in ambito di YouTube non ho mai visto molte persone smaniare per questo gioco però ci ho voluto fare questa serie perché comunque è una serie che a me piace quel titolo non particolarmente ma diciamo è uno dei più corti e uno dei più semplici su cui fare un walkthrough e quindi ho deciso di farcelo non è molto seguito, sì non fa molte visualizzazioni però diciamo è abbastanza seguito da tante persone che mi pregano ogni giorno di continuare a farlo visto che scusate io mi ci diverto nella sua realizzazione alla fine è questo che dovrebbe fare uno YouTuber divertirsi in quello che fa non pensando sempre solo al guadagno ma anche diciamo al divertimento anzi deve essere quella la cosa principale e quindi ecco sto facendo questa serie su Splinter Cell Conviction che comunque continuerò un'altra serie che sto facendo sempre per mio diletto e anche per chi è fan di tale progetto è il San Andreas Drogo che infatti sta andando sempre avanti adesso dovrò registrare nuovi episodi l'ultimo l'avete visto è stato caricato pochi giorni fa anche quella è una serie che non fa tante visual da scoppiare come farei con un video di COD o di Battlefield ma comunque ha il suo seguito e mi dispiace mollarla così perciò la continuerò e state vedendo anche che ultimamente tento di mettere quando riesco un video al giorno ci sono riuscito per una settimana intera perché avevo un bordello di video probabilmente in questa avrò un pochino più di difficoltà ma cercherò comunque di starvi dietro perché cioè vi iscrivete quindi anche per il fatto che YouTube sta sminchiando tutto ultimamente non si sa quando carica i video cioè voi li caricate non si sa se ve li pubblicano gli iscritti o no e quindi io ho deciso di mettere uno al giorno perché così voi sapete che io ogni 24 ore metto un video perciò basta che passate sul canale senza nemmeno se non vi esce il nome voi fate un salto sul mio canale e lo trovate generalmente questa settimana voi fateci un salto lo stesso quotidianamente quotidianamente se volete però alcuni giorni potreste vedere che non ho messo un video perché avrò altri impegni più che altro in questa settimana sarò pieno di compiti in classe quindi anche se non vorrò dovrò studiare avrete dovuto farlo già per domani che ho il compito di chimica e non so fare un cazzo però sono piccoli dettagli questi che comunque non preoccupano il più di voi state tranquilli comunque anche voi altri che siete fan di COD e di Battlefield tenterò di tornarci a giocare anche se sarà abbastanza traumatico perché lo sapete meglio di me se non si gioca a COD per un po' di tempo poi quando ci si torna si diventa delle pippe mostruose o meglio non è del tutto vero perché se giocate a COD con l'obbligo di dover far video e magari vi passa la voglia di giocare bene fate cagare se invece non ci giocate per un po' di tempo e magari ci tornate con la voglia decuplicata allora sicuramente farete meglio di prima perché giocare a COD con la voglia è risaputo ormai porta a risultati molto superiori allora questa partita comunque un attimo giusto per analizzarla non avevo ancora sbloccati i cani e i shami giusto per farvi capire quanto fosse vecchia infatti utilizzavo ancora attacco fulminio lodestar e vtol che nonostante tutto sono delle buone ricompense allora per tornare a parlare di quello che dicevo prima adesso in progetto cosa c'ho? di finire appunto il walkthrough di conviction che necessiterà ancora di parecchi episodi ne stavo giusto registrando uno l'altro giorno ma ho avuto abbastanza difficoltà perché le missioni cominciano a diventare davvero lunghe perciò magari sarà necessario che io le divida in più parti scusate ma sto davvero malissimo ragazzi cioè domani non so cosa farò a scuola morirò sul banco comunque dicevo ormai c'è bisogno di dividere le missioni splittarle se così vogliamo dire perché iniziano a diventare parecchio lunghe e anche difficili perché non dimentichiamo che sto giocando la difficoltà massima che non sarà proprio il top della competitività però diciamo si fa sentire quindi non essendo nemmeno cioè ci gioco ogni tanto al gioco capito per registrare episodi se invece ci giocassi continuamente magari mi ricorderei meglio anche i tasti perché mi è capitato tipo nel prossimo episodio che voglio tirare la granata invece tipo comincio a sparare mi sgavano tutti e cose del genere quindi ecco capite da soli che non è la cosa più semplice del mondo poi che altro allora ho visto con piacere che sempre più persone appunto si iscrivono al canale penso che ormai questa sia diventata una cosa virale perché penso che più aumentano gli iscritti più tipo il mio canale e i miei video vengono diffusi e quindi più possibilità c'è che la gente mi conosca chi si iscrive con questo video benvenuti sul mio canale ragazzi cioè è sempre un piacere accogliere nuove anime che decidono di seguirmi e mi fanno e sono sempre più contento di persone che mi mandano messaggi fan di vecchia data che mi scrivono zampo quanto cazzo sei migliorato se vado a rivedere i vecchi commentari cioè è tutto un altro mondo adesso io davvero di questo ve ne sono grato ma se devo essere sincero me ne accorgo anche da solo che sto migliorando adesso modestia o modestia non ho mai capito come cazzo si dica cioè la modestia so che si pronuncia modestia con questo accento però sentivo gente che faceva modestia a parte ma non può essere che modestia è modestia a parte cioè modestia a parte mi sto anch'io rendendo conto che mano a mano adesso a parte questo commentare che è l'ercio perché a parte l'ora ve l'ho già detto e poi non riesco nemmeno a parlare non so cosa starà avvenendo fuori è un disastro ma comunque ecco se vado a rivedere quelli vecchi mi rendo conto che del miglioramento c'è stato e sicuramente è stato merito anche della scuola che faccio il classico adesso sembra qui che sto a spammare per la mia scuola ma mi assicuro che non è così perché anzi la odio per certi versi mentre mi piace per altri però comunque ha aiutato nello sviluppo della parlantina e così tutte quelle stronzate varie perché comunque è quello che dovrebbe fare il tipo di scuola che frequento io e più che altro una piccola cosa mi è venuta in mente adesso voi pensate che sarà più utile vabbè ormai tutti pensano che avere un pezzo di carta sia meglio che non averlo ma quello che vorrei chiedervi è finite le scuole superiori voi che cazzo farete avete intenzione di andare subito a lavorare oppure magari di tentare di andare all'università allora per me ve lo dico già sarà obbligatoria la seconda perché con la scuola che faccio è qui signori con un liceo classico ci fate davvero poco perché con un diploma del genere giustamente se voi andate a chiedere lavoro ad uno che vi fa un lavoro pratico vi dice cioè il diploma del classico senza i fancazzo con le mani infatti è vero perché io se mi chiedete di fare una cosa costruire qualcosa di qua di là un circuito elettrico io non so ma che cazzo è sta roba cioè con le mani sono buono a giocare e fare qualche altra cosa così però altrimenti in linea pratica sono una frana per questo magari rimpiango un po' di non essere andato in un istituto tecnico o altro perché lì almeno ti imparano davvero una professione e qualcosa puoi fare se non altro se non vai a lavorare perlomeno ti puoi riparare qualcosa da solo quello giusto per dire così e comunque ecco questo quesito era un po' una domanda che volevo farvi se volete rispondetemi nei commenti anche questo video è finito come sempre se vi è piaciuto vi solito lasciare un bel mi piace un commento se non avete ancora fatto ad iscrivervi al mio canale noi ci vediamo con un prossimo video bella ragazzi ciao da Zampetti bella ciao 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 ciao